Ciao a tutti! Come prima cosa voglio ringraziare veramente, veramente, veramente tanto tutti quelli che hanno messo mi piace, che hanno lasciato i commenti e che si sono iscritti al canale. Questo video è un video speciale di ringraziamento con un mini-roll incluso, come potete vedere, avrete già il video dal borsa qui accanto. Io voglio ringraziare i 109 iscritti che ho in questo momento. Grazie, 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 veramente, grazie ad ognuno di voi. Non so come ringraziarvi, veramente, grazie infinite per la fiducia che mi avete dato. Grazie, e grazie a tutti quelli che si iscriveranno da questo momento in poi. Veramente, un bacione, grazie mille. Questo canale è nato in un momento molto particolare della mia vita, molto duro, in quanto è finita la relazione che avevo con il non convivente e io sono tornata dai miei, come vi ho già detto in altri video. È stato un momento molto, molto duro e YouTube mi ha aiutato tantissimo perché mi ha distratto. La cucina è una mia enorme passione e quindi ho deciso di buttarmi a capo fitto in questa avventura, nonostante le difficoltà dettate da questo avvenimento. Grazie, grazie per la fiducia che mi state dando, veramente, veramente infinite, grazie. Non ho altre parole da dirvi a parte queste, grazie. Qualsiasi suggerimento, qualsiasi richiesta, io ci sono. Potete mandarmi un messaggio, potete commentare se volete qualche ricetta particolare. Io sono più che contenta di potervi aiutare, se ne sono capace. Non sono una poco professionista, è tutta passione la mia e quindi guardate, io sono qui. e direi di passare al LOL. Sono passata ieri, io ho qualche problema con i giorni, ieri, sì, ieri, da Tiger, che ha questa splendida, assolutamente splendida, borsina di Talizia e ho visto che non ho passato io Flying Tiger, invece che solo Tiger. Flying Tiger Copenhagen. La borsina è deliziosa, infatti io le tengo sempre tutte. Sono bellissima, addirittura faccio un quadretto questo pezzo perché è troppo carina la borsina. Non ho preso granché, però è carino da farvelo vedere lo stesso. Iniziamo dal pezzo forte e che mi metterò durante questo video perché ci sta. Questo, questo qui è, scusate se lo poso ma è molesto come soli. questo qui voglio metterlo durante tutto il periodo di dicembre per i video, per le presentazioni e per la chiusura. Quindi sarò con questo bel nasino pallina che, se, oddio, se tiro si illumina in teoria. Bellissimo, adesso ve l'ho letto. Aspettate che vi dico il prezzo. No, ho un solo scontrino. Questo qui mi è stato regalato, però mi sono fatto, visto che c'era chi io, mi sono fatto lasciare lo scontrino. No. Vabbè, i prezzi più veri non me li ricordo, quindi ve li dico a me, che abbiate pazienza. Non sono proficcato. Che genialità. Vabbè, questo qui è costato 2 euro e adesso me lo metto. Vabbè, andiamo un po'. Stato da fessi vedere. Ok. Adesso ci ripetiamo questo. Si illumina. Perfetto. E adesso faremo il resto del video così. Anche se è scomodissimo sto naso. Rude. Ok. Poi ho preso queste carinissime stelline nero-azzurre che si chiamano BLONDE DES GENERES Vabbè, gente, ve lo rimostro da vicino. Ovvero, stelline di zucchero assortite. Peso netto 30 grammi e queste qui, se non erano, le pagate 2 euro. Ovviamente più care rispetto a quelle che ho preso negli altri video da Lidl o al supermercato, tipo il Conad, va vabbè, va bene, va troppo simpatico per i due colori. Poi, li ho ritrovati. Quindi ho ricomprato i pirottini con i fantasmini. Non è più Halloween, ma sono troppo, troppo belli. Sono eccezionali, quindi... E poi vanno proprio bene, mi sono trovata benissimo, regola benissimo la cottura, si sforba poi la tortina in maniera meravigliosa, quindi li ho presi. Questi qui sono 20 pezzi che ho pagati 2 euro, pure me lo ricordo. Poi, le spugnette a forma di cuore, assolutamente strepitosi. Ci sono 3 spugnette rosa e 3 spugnette verdi. Verdi e rosse. Carinissime, 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 carinissime. Le ho prese più per l'estetica forma di cuoricino che per l'utilizzo di sé per sé. Però mi sono costate 6, mi sembra 1 o 2 euro. Io mi sto a fare, è scomodo, non avete idea. Mamma mia, aiuto, per il naso. Ok. Adesso lo tiro in Italia, ma perlomeno la funzione la fai. Aiuto. Ok. È fatto. Mi sta provo a cremando gli occhi. E da ultimo, questo qui che è un giochino per un cagnetto speciale, che glielo darò giovedì. Questo bel giochino. Praticamente è il giochino più grande del cagnetto, quasi. Questo qui è passato 3 euro, mi sembra. È ben fatto, molto ben fatto. Io ho avuto un cane anni fa, poi è mancato di vecchiaia, per la vecchiaia. È fatto in corda e in plastica. E niente, eccolo qui. Abbiate pazienza per il mini haul, veramente piccolissimo, però più che un haul era per ringraziarvi, per fare il ringraziamento per questi iscritti. non volendo fare un video di 30 secondi giusto per dire grazie, ho pensato di prendere due cosine da Tiger, che sono sempre carine da vedere, e volevo umiliarmi un po'. Anzi, volevo presentarvi l'anteprima delle feste, col cecchietto molesto e con le corna, giusto per rimanere in tema con la mia fortuna nelle relazioni. Per rimanere in tema con appunto la mia fortuna, e farmi fare due risate con me. Grazie mille. Mi spiace che di cucina alla fine ci fossero solo queste due cosine, che vedrete presto, vedrete usare presto. Soprattutto queste, queste qui ormai Halloween è passato, quindi magari posso mettere per simpatia, perché i fratelli sono sempre carucci. Cercherò di usare queste, che mi piacciono molto, per qualche dolcino, per qualche bacio, magari per qualche tartina. Detto questo, io mi levo il naso, ok, lo metto giù, questo girocollo, mi sta strozzando, non si può. Ok, questo me lo rimetto però. Detto questo, io vi saluto, mi mando un grandissimo bacio, vi ringrazio ancora tantissimo, grazie, grazie mille a tutti, e ci vediamo nel prossimo video. Grazie, veramente, veramente grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.